Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. L'Abruzzo a metà tra l'arancione e il rosso vive un momento di tregua con i contagi. Non è che oggi siano poi così bassi, ma rispetto agli ultimi tre giorni è la percentuale di contagiosità che è più bassa. I nuovi contagiati sono 387. I test effettuati tra antigenici e molecolari sono complessivamente 8.808 per una percentuale derivante dal rapporto dei due dati pari al 4,4%. Ieri era quasi il doppio. Il risultato del rapporto invece derivante dal numero dei nuovi contagi ai tamponi molecolari effettuati è dell'8,3%. Questo in teoria è il dato più attendibile e affidabile. Oggi la provincia più colpita dal contagio non è quella di Pescara, Macchieti, dove i nuovi positivi sono 173 contro i 105 del Pescarese. Molto al di sotto ci sono le altre due province, quelli arancioni di Teramo con 66 positivi e l'Aquila che ne conta invece 39. C'è un'altra buona notizia, o per meglio dire ottima notizia, ed è quella che riguarda il numero dei decessi delle ultime 24 ore, che sono solamente due. Il totale delle vittime diventa così di 1.610. Ma per una buona notizia che arriva ce n'è un'altra pessima, ed è quella relativa ai ricoveri nelle strutture ospedaliere regionali, che aumentano in maniera spropositata, dando uno scossone anche all'indice R.T. Pensate che solo quelli nelle aree mediche, che sarebbero poi le terapie non intensive, sono 21 più di ieri, per un totale di 567 posti letto occupati nelle corsie, e l'incremento è altissimo. Cresce anche il dato riferito alle terapie intensive, che aumentano di due unità e i letti occupati sono così 75. Insomma, le aree intensive vedono aumentare sempre più i posti letto occupati, e la percentuale sale avvicinandosi pericolosamente al 40%. Per fortuna che quantomeno oggi il numero dei nuovi guariti è abbastanza alto, vale a dire 278 più di ieri, che fanno salire il totale a quota 36.497. Sul fronte ai vaccini ci si è un po' bloccati per la fascia di età, che va oltre i 55 anni e fino ai 65, perché in Abruzzo in questo momento sono distribuiti quelli dell'AstraZeneca, dei quali però non è stata ancora comunicata ufficialmente la validità di copertura per la fascia di età più alta. Questo al momento non permette di utilizzarli, visto che dalla prossima settimana, ad esempio, partirà la vaccinazione per gli ultraottantenni in alcune città tra le più grandi. È comunque solo una questione di ore, e dal momento della comunicazione le scorte presenti potranno essere utilizzate. Grazie. 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 Grazie.